Musica Con Pina, come vivi tu la sezione in rosa di Napolimoto? Dunque, questa passione è stata trasferita dai nostri mariti, fidanzati, ragazzi e quindi viviamo con loro questa passione di uscire in moto, di stare insieme in questa avventura sulle moto Alessia, perché andare in moto è un'avventura? Perché comunque siamo sempre in tanti, è bello sentire i rumori delle moto, la gente che ci guarda uscire e fare quello che ci piace fare, andare in giro, la passeggiata, mangiare insieme, insomma stare insieme Con Gigi Di Lecce che ci racconta com'è nata l'idea di Napolimoto Ciao a tutti, Napolimoto è nata due anni fa, a gennaio del 2008 è nata in effetti come idea di quattro ragazzi l'idea mia, Riccardo Finizio, Alfredo Basta e Marco Fossa è nata in effetti come all'inizio, come semplice motivo di incontro, di raduno per fare uscite in moto, insomma giornate goliardiche possiamo dire così poi successivamente si è sviluppata man mano, fino poi nel tempo a diventare anche un'associazione sportiva dilettantistica per portare avanti quelli che sono gli scopi dell'associazione i scopi che avevamo in mente, ossia trattare un po' a Napoli e anche in Campania possibilmente nel mondo motoristico, quelli che sono i principi della sicurezza stradale e tutta una serie di attività che comunque speriamo possano contribuire nel tempo ad aumentare la passione delle moto Oggi siamo qui per questa moto benedizione, un altro passo abbastanza importante, nuovo soprattutto a Napoli e così diciamo continueremo nei vari anni che verranno Con Alfredo Basta, uno dei organizzatori di Napoli in moto i compiti che il tuo ruolo ti impone di seguire? Allora sul sito principalmente sono quelli di una buona moderazione per tenere un po' tranquilli tutti gli utenti, gli iscritti per quanto riguarda invece le uscite, le organizzazioni delle uscite noi cerchiamo di dare un'impronta sulla sicurezza stradale principalmente perché ci sono tanti ragazzi che purtroppo a volte vogliono emulare piloti che non sanno che invece per strada ci sta un codice da rispettare e cerchiamo di moderarli anche nelle uscite quando si cammina per strada e cerchiamo di portarli principalmente alla pista l'unica cosa realmente sicura e anche più divertente dove si può sfogare il vero istinto del motociclista La pista come habitat naturale per chi ama spalancare il gas? Certo sicuramente, l'unico habitat naturale è quello lì per spalancare il gas Su strada invece bisogna divertirsi senza rischiare la pelle? Su strada bisogna divertirsi sicuramente perché poi non tutti possono chi per un fatto economico, chi per tempo può andare in pista e per strada ci si può divertire tranquillamente rispettando i codici stradali buon abbigliamento tecnico, giubbino, guanto, paraschina, stivali, casco integrale e per strada ci si può divertire lo stesso Il buon motociclista è ossequioso alle regole del codice della strada? Sì, deve essere così, noi ci teniamo molto a questo chi non è così per noi non è motociclista Marco Fossa, uno dei organizzatori di Napoli Moto, quali le vostre finalità? Le nostre finalità, questo nostro progetto, perché noi così lo definiamo è quello di portare un concetto diverso del motociclista in campagna le nostre uscite, i nostri eventi sono tutti finalizzati a un unico scopo che è il divertimento e tra l'altro a un uso corretto delle due ruote questo fa sì che i nostri eventi, ripeto, e le nostre manifestazioni ci sono sempre più gremite di persone perché a differenza di quello che la gente crede che il motociclista è una persona che si vuole divertire correndo in realtà il motociclista è una persona che vuole divertirsi stando insieme infatti le nostre uscite usciamo in gruppo, torniamo in gruppo e manteniamo questo in tutto e per tutto anche nel discorso forum con l'unione di uno scambio reciproco di pensieri e di consigli sulla moto infatti sia io che gli altri organizzatori con l'aiuto anche delle istituzioni come oggi grazie al parroco della chiesa cerchiamo anche di fare degli eventi diversi che in altre città d'Italia si fanno però a Napoli è una città un po' come dire viene leggermente in un secondo momento ma ci stiamo arrivando anche noi meglio tardi che mai certamente e oggi noi siamo con l'aiuto di tanti altri speriamo che abbracceranno il nostro progetto stiamo cercando di non essere più in ritardo rispetto agli altri ma almeno essere allo stesso pari passo il motociclismo è anche cultura? certamente perché bisogna acculturarsi bene sul mondo delle due ruote sul tema della sicurezza, sul tema dell'abbigliamento, sul tema delle strade gli scooteristi oggi hanno una problematica reale perché riteniamo che lo scooterista può avere le stesse pericoli di un motociclista oggi hanno grosse cilindrate, hanno grosse accelerazioni quindi con noi escono, e questo lo voglio sottolineare, sia arleisti con super sportive, questa è una bella cosa e anche scooteristi questo perché basta rispettare il codice della strada oggi, ripeto, gli scooter, aggiungo tranquillamente la velocità di codice si arriva, ci si spiega mano a mano anche come funziona un gruppo come si segnala un pericolo come si segnala quando si svolta in maniera decipata tutte queste cose stradano a un utilizzo corretto ripeto, noi stiamo facendo questo da due anni certamente i primi tempi come tutto sono stati difficili però la tenacia e la costanza ci portano questi risultati e penso che oggi sono ben visibili a tutti grazie prego con l'assessore all'ambiente Gennaro Nasti il motociclista ha sfavato un tabù ma sì, sicuramente è una mattinata molto sorprendente oggi perché vedere tanti motociclisti ordinati attenti peraltro ad un incontro con la Chiesa per quanto riguarda la campagna di sicurezza stradale sicuramente sfada un tabù effettivamente è un'immagine diversa che sicuramente fa scoprire una piacevole sorpresa a tutti quanti noi quindi ben vengano questo tipo di iniziative perché sono sicuramente positive e soprattutto nel momento stesso in cui ci si riflette su quelli che sono i temi della sicurezza stradale è sicuramente un aspetto molto positivo come le istituzioni sono sensibili alle richieste dei motociclisti? a me come assessore anche ai parchi il parroco e gli organizzatori hanno chiesto il parco subito siamo stati ben felici di darlo se poi arrivano altre richieste a disposizione per morestando che come dire a Napoli gli spazi per i motociclisti penso che tutto sommato essendo una città abbastanza libera ci sono la parte più sportiva forse riguarda altre zone del territorio nazionale penso la grande tradizione che c'è in Emilia dall'Emilia in su però noi siamo comunque sempre disponibili a secondare un tipo di cittadinanza che magari vive sotto dei cliché degli stereotipi che poi non corrispondono alla realtà i motociclisti sono prima loro dei cittadini che hanno i loro diritti hanno i loro doveri e che sicuramente vanno sempre tutelati innanzitutto grazie con Riccardo Finizio uno dei organizzatori di Napoli in moto organizzazione che vanta ben 800 iscritti Riccardo un impegno importante il vostro sì un impegno importante un impegno nuovo per generare un punto di aggregazione nel mondo moto campano che diciamo fino ad oggi latitava di una figura che riuscisse a generare un punto di unione e anche di corretto utilizzo della motocicletta nel senso che le moto supersportive per portarle in pista quindi la vita della pista vissuta in modo sano quindi una corretta competizione quindi senza mai mettersi a rischio le uscite per strada con scopi che sono dei più vari da andare a visitare le grotte di Pastena quindi anche gli aspetti culturali e anche alimentari che sono fondamentali perché diciamo il connubio moto cibo è sempre qualcosa di molto particolare molto accattivante e quindi Napoli in moto come dire cresce grazie all'amore all'affetto di tutte queste persone che oggi sono venute e rappresenta una soddisfazione per chi ha investito tanto tempo libero nel dedicare come dire amore a questo mondo e quindi è molto ben ripagato tutto ciò a Napoli la passione per le moto pulsa forte pulsa molto forte purtroppo è un po' frustrata dalle infrastrutture mancano piste le strade sono in condizioni decisamente pessime poi con questo inverno con questa pioggia battente abbiamo delle condizioni il manto stradale è veramente pessimo buca più non posso però come dire noi cerchiamo sempre di vivere il modo corretto sempre di dare anche un segnale un segnale della nostra presenza e questo è un modo per farci vedere e chi lo sa in un futuro anche di essere tenuti in debita considerazione diciamo per dalle varie enti che sono l'ACI che oggi è presente dalla municipalità che oggi è anche presente e quindi chi lo sa speriamo in un futuro migliore più roseo per noi motociclisti in bocca al lupo grazie crepi Veccio ex campione del mondo scooter ex campione del trofeo inverno open pilota di successo del campionato di treno velocità e tecnico noto e conosciuto alle falde del Vesuvio Gianfranco il motociclismo è una passione forte viva e positiva sì infatti stamattina siamo qui alla moto benedizione a Napoli e noto con piacere che ci sono almeno 500 moto quindi vuol dire che la passione è ancora vive in questa città una passione che lancia dei messaggi positivi e non negativi sicuramente un po' in tutte le cose ci sono le cose belle e le cose brutte diciamo molte persone sbagliano pensando che i motociclisti sono sono tutti negativi ci sono anche quelli che vivono la moto in maniera tranquilla pulita come noi e la vivono con serenità è onnipotente creatore del cielo e della terra che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto fa che i conducenti di queste motociclette nei vari percorsi di lavoro di svago di divertimento e di amicizia operino sempre con perizia competenza e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertono accanto a sé la tua continua presenza per Cristo nostro Signore e dello Spirito Santo Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo lavami e sarò più bianco dell'alene